Mo te cerca di immaginare a te a scena. A Vergine Maria sta a casa sua e tutt'an tratto gli piomba l'angelo in soggiorno, così di punto in bianco, senza manco bussà. A una già gli sarebbe piata il coccolone, ma diciamo pure che lei non si scompone. St'angelo gli fa, Marie, c'è una bella notizia. Tra un nove mesi, giorno più giorno meno, farai un regazzino. Calcola che Marie ancora manca era sposata, e infatti io dici all'angelo gli fa, oddio, mi pare un po' improbabile, dato che ancora col fidanzato mio Giuseppe non, cioè, sì, qualche bacetto, ma niente di più, che io sono una ragazza onesta. Non te preoccupai, e fa l'angelo, ci penserà o Spirito Santo. Tu non devi pensare niente, manco al nome, che già amo deciso noi, e si chiamerà Gesù. E poi giù a spiegargli come quarmente sto bambino crescerà e sarà il figlio del Dio, eccetera, eccetera. Mo' io me immagino una qualunque ragazza che gli dicono una roba così, perlomeno gli è pieno scompenso e sbianca, per non di magari sviene e devono da chiamà l'ambulanza. Ma tu vedi nel quadro che Marie tranquilla, come niente fosse, sorride, e non fa una piega e fa un gesto come a di, ecchi me qua, io so pronta. E tutta a scena è carma e tranquilla e dolcissima. L'angelo bello, appunto come l'angelo, Maria bella pure lena, bella casetta, tutto si sorge secondo i piani e non ci sono rimostranze o dubbi o domani o ricorsi a artar. Perché il pittore te può far vedere che Maria è non solo una donna eccezionale, ma un esempio di umiltà e disponibilità, che il piano che ha provvidenza, ha pensato per lei, l'accetta senza batteciglio. E tutti gli cristiani, se sottintende, dovrebbero da fa' così. Solo che qui non se facceno a tutte le sofferenze che sta donna dovrà sopportà, compreso vedessu Pion Croce, né al fatto che si segui la volontà de' Dio, na' vita è probabile assai che non saranno tutti rosi e fiori. Ma qui no, è tutto fatto de' zucchero, soffice come in cuscino, quasi che Barocci tedesse un par di occhiali rosa per guardare il monno. E devi pensare che era l'epoca da controriforma, che la Chiesa Cattolica ci teneva un botto a ribadire i concetti suoi e fa' vedere che era meglio di protestanti. E per farlo usava metodi torci e metodi meno torci, e il bastone e agaroda. Barocci e agaroda. E come se te dicesse, via con noi, siamo l'unici giusti, non te preoccupa'. A te ce pensamo noi, tu fai quello che te dimmo e vedrai che sarai ricompensato. Sinodro entro sta vita, na' prossima, che tamo riservato un posto in prima fila in paradiso.